31 progetti in gara presentati da 85 architetti e ingegneri di tutta Italia per la riqualificazione ambientale e funzionale di Piazza Sant'Anna di Palazzo e quartieri spagnoli. Con la premiazione dei vincitori al Museo PAN si conclude la seconda edizione di Wiki Architettura 2.0, concorso di progettazione organizzato dall'Associazione Studio 147 per promuovere e condividere progetti architettonici e urbanistici proposti per Napoli e mai realizzati. Adesso noi consegneremo questi elaborati all'amministrazione, la quale poi dovrà renderli esecutivi, mentre invece a noi spetterà il compito di fare attività di fundraising al fine di trovare degli sponsor in grado poi di finanziare questi lavori che speriamo di poter fare nel minor tempo possibile. L'iniziativa organizzata in collaborazione con l'assessorato all'urbanistica del Comune ha coinvolto anche cittadini e residenti che hanno partecipato ai sopralluoghi e offerto suggerimenti ai progettisti. Le proposte sono state selezionate da una giuria di esperti e resteranno in esposizione al PAN fino al 20 maggio, dando la possibilità a coloro che sono interessati di confrontarsi ed esprimere pareri sui progetti. Il primo classificato è il team di architetti guidato da Anna Mandia che si aggiudica un premio da 1.500 euro.